...donde mai l'anidio viene costruito, viene costruito anche una certa sapiente, questo è proprio a rete. ...quello che non torna in questo caso è il fatto che non lo si può facilmente rubricare né come un evento fisico con una circolosa di costruzione, né come un evento non evitato ...quello secondo me, ma in tutto il fatto che non aveva letto l'ipotesi, che secondo me l'ipotesi su cui io utilizzerei l'omicidio, l'omicidio non è venuto per queste banalità che non lo dovessi fare, ma è venuto perché nella mia area di schiava di svelare, la sua denuncia ha fatto meglio tra tutti i nostri amici, però non è detto che la sua fine è vero che la sua fine è un problema, ma non è anche detto che la sua fine non ha avuto il canale della moglie, perché si è vero nel caso di questo, allora se è tutto un'attica investigativa, me lo farebbe guardare a quelle conclusione delle quali era scoperta la popola militare, quando ha estragato la caserma, le sue dinamiche di spese della telefonazione, se non nessuno si è valutato, ricordate che la sua fine avrebbe voluto al canale a lindicare con la moglie, perché mai avrebbe voluto a vivire più un posto, dove per il momento, fino a mezz'ora prima, c'erano 30 militari che stavano abbassendo una cittadina, e come sapevano i testi del sentimento, ma voi dovete abbassare vostra moglie, ma potreste un posto afficcato, affollato sui vostri colleghi, è un posto più grande, è un posto più grande. Allora, Menuzzi dice di tornare a isagare qui sulla conferma, torniamo a terra, lo saremo pronti, il piatto di questo grado che ha seguito anche questo filone dell'inchiesta, cosa è saputo su questo tipo di ingatti, la parte della cultura militare? Questa è importante, io direi che è importante che io direi un passaggio, invece, del prodotto proprio del giudice Fommolini, questo anche se questo è veramente al dibattimento del dito avellato, quando Fommolini negò, il giudice dei domiciliari, ha stato proprio il paroletto. Mentre il prezzo, cioè Fommolini, dal momento dell'asparizione generale, poi ha adottato una colloca finalizzata a nascondere le relazioni extradivitali e a testi non certi evitati della propria attività privata, che porta a nessuno che sia stato un parito, un padre, un modello, dimostrando di essere ben più preoccupato della propria carriera militare che è per il trama della morte della moglie che, intimando il fatto, questo è un altro passaggio che è importante, il tirato di fatto le prove e i pezzi, che era Fommolini, all'essentativo di occultamento del cellulare utilizzato per contattare l'utilizzo, la sua espaglia, appunto, a mano. E questo è il passaggio del procedimento, quindi, già che il giudice Fommolini aveva il giudicimento della contemolezza di Fommolini e soprattutto per la parte del registragio e per la carriera militare anche porta a quella che era in quel momento un dramma di nuovo che, appunto, aveva fatto la moglie scomparsa comunque da poco ora. Insomma, quello che si sta dicendo Croci, che ormai è una sentenza mortessa, che mi sembra proprio inizibile, ed è strano che il giudice ordina una delizia, peraltro, soprattutto di conflutere, perché tutti inserire un'attività, 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 ma anche alcuni aspetti che sembravano abbastanza affidabili, ma questa testa non è stata assoluta in debito corto. Mi sembra un abbeggiamento che, da una parte, è sembrato che era troppo lì a tutti, perché non si arriva dall'altra valenza invece delle decisioni che, evidentemente, per elementi che noi non abbiamo sentiti, che forse aveva già valutato.